Alex Belli, la moglie Delia rompe il silenzio, a ogni male ci sono due rimedi Alex Belli complice con Soleil sorge al GF VIP, la moglie Delia Duran, a ogni male ci sono due rimedi Al grande fratello VIP 6 senza ombra di dubbio non sta sfuggendo ai concorrenti Al pubblico da casa e al conduttore la complicità tra Alex Belli e Soleil sorge Mentre cresce l'attesa per vedere una nuova puntata del reality show su canale 5, la moglie dell'attore ha rotto il silenzio sui social Le parole scritte da Delia Duran che stando alle anticipazioni questa sera farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà per avere un confronto con il marito e l'influencer italo-americana, sono state, a ogni male ci sono due rimedi GF VIP, Alex Belli ammette che Soleil sorge le piace Delia Duran si fa sentire, il tempo e il silenzio Sia Alex Belli e Soleil sorge due concorrenti della sesta edizione del GF VIP hanno ammesso di andare molto d'accordo Proprio l'attore che di recente ha svelato di avere pochi amici nella vita di tutti i giorni Non ha nascosto che l'influencer italo-americana non è indifferente ai suoi occhi con queste parole A me Soleil piace tantissimo come compagna di viaggio, come amica Delia Duran la moglie di Alex oggi venerdì 29 ottobre 2021 si è fatta sentire sui social In un post condiviso sul proprio profilo Instagram La modella e attrice di origine venezuelana precisamente in una sua nuova fotografia ha inserito questa didascalia Che potrebbe essere una risposta a ciò che sta accadendo nella casa di Cinecittà tra suo marito e Soleil cioè al fili che hanno instaurato Delia dopo aver sottolineato che a ogni male ci sono due rimedi ha aggiunto, il tempo e il silenzio Buon weekend, Milano, silenzio Alex Belli avrà un confronto con la moglie al GF VIP? I fan, Delia Duran fai vedere quanto vali Sempre oggi Delia Duran si è mostrata in compagnia della sua cagnolina e ha inserito questa scritta in inglese, il cui significato in italiano è Finalmente mi sento bene e sono guarita da un'influenza stagionale grazie alla mia famiglia e a questa piccola bebè bella Nel post in cui la moglie di Alex Belli ha fatto capire che preferisce rimanere in silenzio Intanto non sfuggono i commenti da parte di parecchi utenti della rete tra cui i seguenti Delia tuo marito ti ama ma secondo me dovresti entrare nella casa e chiarire alcune cose Forza Delia vai e digliene 4 a quella gatta morta Alex è un traditore per natura figurati, vai Delia fai vedere quanto vali Delia scaricalo ha fatto vedere davanti a tutta Italia che non ti merita Grazie a tutti Grazie a tutti